Praticamente un secondo giorno in maglia nero-azzurra, primo allenamento qui con i compagni a Pinzolo, ieri una parte da Piano Gentile, emozionato ancora. Sì, sono contento, è successo un po' tutto veloce, però mi hanno accolto subito benissimo, sono contento, sono ancora più felice oggi di aver fatto il primo allenamento con la palla con tutti i ragazzi. Hai visto già i tanti tifosi presenti, preparati perché nei prossimi giorni aumenteranno sempre di più, hanno già scritto in tanti anche a noi per darti il benvenuto, so che anche su Twitter. Hai trovato già compagni come JJ e Jonathan che ti hanno spiegato un po' come funziona? Sì, sì, mi hanno spiegato un pochino, mi hanno accolto benissimo pure i tifosi, mi hanno mandato tanti messaggi, sono contento e spero a lungo della stagione poter sentire ancora più, sentire i loro vicini. Allora, ti lascio perché poi ci sarà una presentazione ufficiale, quindi avrai modo di raccontarti e farti conoscere, ce lo fai un saluto agli abbonati di Inter Channel? Sì, sì, ciao a tutti, saremo ancora questi dieci giorni qua insieme, di casa potete guardare tutti gli allenamenti, tutte le notizie di questo ritiro 2014. Perfetto, guarda che bello spot che ci hai fatto, grazie e benvenuto ancora. Ciao, ciao. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di...